Detto questo, si può fare la storia della noia? Certo che si può, perché ormai noi facciamo la storia di qualunque sentimento e non c'è niente di strano nel imbattersi in un articolo scientifico che si intitola, che ne so, l'invidia nel tredicesimo secolo, ecco. Quindi anche della noia è stata fatta la storia.